Una vera e propria staffetta di solidarietà per aiutare Federico Cetrullo, il giovane che a seguito di un incidente avvenuto la scorsa estate è stato costretto in un letto di ospedale in attesa di raccogliere i fondi necessari per una costosa operazione svizzera. In circa sui 100-110 mila euro, quella è la cifra che la Svizzera richiede per questo intervento. Finora quanto è stato raccolto? Siamo sui 75 mila euro. C'è una scadenza per quest'operazione? Non c'è proprio una scadenza, prima lo facciamo è meglio, però tutto dipende dalla situazione fisica di Federico. Deve riprendersi un po', deve rimettere su un po' di chili. Se ne ha persi 23, almeno speriamo che ne rimette almeno la metà per sottoporla all'intervento. Sono state tante le iniziative volte a raccogliere fondi a suo favore e oggi il corpo dei vigili urbani di Pescara consegna a suo padre il ricavato di una cena di beneficenza, oltre 5 mila euro, ma la gara di solidarietà deve continuare. Quando la Polizia Municipale viene coinvolta e viene presa anche per il suo lato umano e personale, è capace di intervenire e di dare una mano a tutte quelle che sono le emergenze quotidiane, cosa che facciamo ogni giorno. Purtroppo poi della Polizia Municipale trapela sempre l'immagine del cattivo, delle multe, di colui o coloro che mettono le mani nelle tasche delle persone. Ancora qualche decina di migliaia di euro per raggiungere la cifra di 110 mila euro, ma la preoccupazione va al posto operatorio. Dice il padre una riabilitazione che costerà 400 mila euro, un nuovo traguardo da raggiungere. Che cosa si prova a vedere tanta solidarietà? Sicuramente una fonte di gioia per la famiglia di Federico, soprattutto per Federico, perché è qualcosa che non lo fa sentire solo in questo momento difficile della sua vita.